Giovedì 16 maggio sarò ospite di Stefania Bonomi per presentare il suo libro Lo Schumani Music School in via Morina a Roma, questo bel romanzo che lei ha fatto, che si chiama Il pentagramma dell'anima, che è un romanzo ispirato e è molto interessante, parla di amore, parla di vita dopo la vita, non vi racconto tanto, ma noi vi aspettiamo perché sarà una serata intensa, misteriosa e interessante. A presto!